Stamattina una notizia terribile ha iniziato a circolare alle prime ore dell'alba. Gaetano Fazio, inimitabile pizzaiolo di fama internazionale, è morto all'improvviso all'età di 73 anni, dopo aver trascorso l'ultima giornata di lavoro presso la pizzeria che porta il suo nome in via delle Ginestre a Dischia. Umile e generoso, Gaetano ha iniziato da giovanissimo ad impastare acqua, farina e lievito, creando delle pizze soffici e saporite, sempre condite con alimenti di prima scelta cucinati alla perfezione dalle sue stesse mani. Esponente di spicco dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, ha trascorso la stragrande maggior parte della sua vita professionale sull'isola Dischia, da dove, prima presso l'accorsato ristorante da Cecilia e poi, in proprio, per decenni ha esportato la tradizione della pizza in tutto il mondo, passando, come se nulla fosse, dal continente asiatico a quello americano, lasciando, ovunque abbia imbastato pizze, un ricordo indelebile della sua maestria. Nel novembre del 2019 fu premiato negli Stati Uniti d'America per i suoi 60 anni di carriera. Ospite di Salvatore Discale e il suo allievo ischitano emigrato negli States dove gestisce la famosissima pizzeria Naples 15, a Gaetano Fazio fu conferito il premio alla carriera dall'Università del Wisconsin-Madison. Riconoscimento conferitogli personalmente da Ivan Sol, il filosofo americano e professore merito nel Dipartimento di Filosofia degli Stati Uniti. E quella, per Fazio, fu anche l'occasione per incontrare le leggende del basket americano, tra cui la stella Rashard Griffith, il quale, assieme a tantissimi altri campioni della pallacanestro, ha avuto modo di degustare l'eccellente pizza preparata dal pizzaiolo ischitano. In Giappone, invece, da dove era rientrato da appena due settimane, da tantissimi anni Gaetano rappresentava una vera e propria star. Infatti, dopo aver formato presso la sua pizzeria di ischia decine e decine di pizzaioli con gli occhi a mandorla, in Giappone sono stati inaugurati vari ristoranti con il suo nome. Apprendisti pizzaioli che, incredibile a dirsi, lo capivano al volo anche quando si rivolgeva loro in dialetto napoletano. E per dare il senso della grandezza internazionale raggiunta dalla sua arte, basta ricordare che sempre nel 2019 giunse a dischi alla troupe di una delle maggiori reti televisive nazionali delle Filippine per raccontare la sua straordinaria storia di umile e grande pizzaiolo. Cosa aggiungere? Caro Gaetano, grazie per averci deliziato con le tue pizze e di averci dato lezione di saggezza ed umiltà. Che la terra ti sia lieve, grande maestro. Grazie a tutti.